Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo la maglia da trasferta del Valencia, quindi una squadra del campionato spagnolo, nella versione FAN per la stagione 2022-23, quella appena incominciata. Riportando una combinazione di colori, che è stata utilizzata l'ultima volta nella stagione 2019-2020, ma che ha spesso riscosso il favore dei fedeli del club Puma e Valencia hanno realizzato la nuova maglia da trasferta per il 2022-23. Sulla scia della nuova maglia di casa, il Valencia ha ora rilevato la sua nuova maglia da trasferta per la stagione 2022-23 e vede una combinazione di colore che sarà familiare ai FAN. Il design vede il nero e l'arancione riunirsi ancora una volta, mentre incorpora anche accenni all'iconico Mastaya mentre si avvicina al suo centesimo anniversario. La maglia da trasferta del Valencia vede una base nera con una grafica grigia sublimata sul davanti, ispirata alla forma del Mastaya. L'arancione poi spunta attraverso il colletto, i polsini, il marchio, lo sponsor e lo stema del club. Non è una squadra tra le più conosciute, ma questa maglia nella mia personalissima classifica prende 5 stelle. Adoro questo contrasto arancio e nero, sebbene è una maglia molto semplice devo dire che è una delle mie preferite. Qui in alto vedete il prezzo che aggiungere se non che è un prezzo veramente molto basso e conveniente e vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e mi raccomando andate a vedere sul sito perché poi sono presenti anche degli sconti progressivi in base alle quantità. Sottolineo peraltro che la maglia è fatta veramente molto bene e i tempi di consegna sono stati veramente molto veloci. Questa è arrivata in 21 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Prima di farlo, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Dimenticavo, se non siete d'accordo con la mia valutazione fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere quale altre maglie vorrete vedere in futuro. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quello che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti!